Perchè quando ci sediamo a tavola ci sembra di aver aspettato quel momento tutto il giorno? Perchè parliamo di cibo? Sempre. Anche mentre mangiamo. Perchè no, la cipolla non ci va. E invece sì. Perchè mia mamma lo faceva diverso. Perchè il profumo che senti dalle scale speri sempre che arrivi da casa tua. Perchè ce n'è sempre ancora un po' per chi vuole fare il bis. Perchè i sapori, i colori, il sugo che porbotta. Perchè per noi italiani mangiare non è mai solo mangiare. E Cirio lo sa. Cirio. Cuore italiano.